buongiorno a tutti benvenuti tutti voi che state guardando questo video che vi ricordo è un video di aggiornamento sul nuovo GDPR 679 del 2016 nuovo si fa per dire ma comunque in ogni caso diciamo che è il regolamento che gestisce la gestione del dato sensibile a livello di comunità europea in italia questo regolamento è in vigore dal 2016 nel 2018 lo stato italiano con la legge 101 ha portato nell'ordinamento normativo italiano completamente tutto il GDPR che comunque era già operativo dal 2016 come vedete sulle slide che avete a video a fianco a me praticamente potete vedere infatti il titolo di questa presentazione di questa chiacchierata che faremo che è GDPR il nuovo regolamento sulla protezione dei dati personali questa è già la prima come posso dire interessante nota da tenere in considerazione come vedete non è il nuovo regolamento sulla privacy ma è il regolamento sulla protezione dei dati personali poi vabbè guidelines regole impatti e sanzioni quindi in questo nuovo regolamento il garante europeo ha messo tutto quello che può essere utile per la definizione di un percorso corretto di gestione del dato personale la nota di costume è che non è un regolamento sulla privacy cioè è un regolamento sulla protezione del dato capiremo un po' più avanti perché ma già questo già nel titolo c'è un grosso cambiamento come potete vedere nel regolamento ci saranno le linee guida le regole gli impatti che ci possono essere sulle singole istituzioni e le sanzioni eventuali ora permettetemi di presentare brevissimamente il gruppo editoriale che io rappresento come potete vedere il gruppo editoriale si chiama cc editore il nome deriva dalla currenti calamo editore che la nostra casa editrice che esiste dal lontano 2002 pubblica testi per le scuole affiancata quindi nel gruppo editoriale affiancata alla casa editrice abbiamo un quotidiano online che si chiama betapress.it è un quotidiano che scrive di quotidianità nel senso parla di argomenti non è certo il quotidiano che parla dell'incidente in via milazzo ma fa un lavoro un po più editoriale di come posso dire di affrontare argomenti e tematiche importanti vedi il covid vedi la scuola vedi la politica eccetera eccetera a fianco c'è una una divisione che si occupa di privacy eccola qua la controller privacy punto it dove abbiamo oltre 200 scuole per cui noi facciamo la parte di data protection office e fa in teoria servizi di consulenza privacy sia alla pubblica amministrazione che alle aziende private siamo per esempio i dpo del gruppo smemoranda di nexid insomma di alcune grosse realtà abbiamo un centro certificato per il rilascio di certificazioni e poi abbiamo due enti di formazione certificata in particolare free tech che è un servizio di consulenza tecnologica che quindi è una società tecnologica di tecnologia di cyber security di informatica di consulenza strategica e poi abbiamo un ente di formazione certificato dal miur che è appunto nei sensi della direttiva 170 è un ente di formazione che fa diventare il gruppo editoriale un ente accreditato dal ministero chi siamo noi personalmente mi chiamo corrado faletti sono diciamo il presidente gruppo editoriale per per passione sono un giornalista iscritto all'albo per professione sono un sociologo pedagogista mi diletto di insegnare su università e va bene o come giornalista ho scritto molte pubblicazioni alcuni libri sia sull'attualità che come poter dire sulla didattica sulle metodologie didattiche su la privacy abbiamo scritto un manuale della privacy che è uscito giusto ottobre dell'anno scorso affiancato da roberto che è un esperto di cyber security dall'avvocato andrea caristi che è un legale un avvocato esperto di web di web identity di reputational defense quindi è una persona che è consulente del garante quindi diciamo un persona di assoluto livello e di competenza la dottoressa sparaccio sparaccio chiara che è praticamente un esperto in comunicazione marketing e la dottoressa stefania pagani che è il diciamo la parte di gestione di tutta la customer care che abbiamo messo a disposizione di tutte le nostre le società e le scuole gli enti bullici che noi seguiamo vedete qui a video alcuni riferimenti dentro nel team che noi usiamo per gestire le scuole c'è anche il dottor zafferi e l'ingegner torcoli che sono altri due esperti di informatica e di cyber security incominciamo ad affrontare il tema del gdpr come potete tranquillamente vedere la gazzetta ufficiali l 119 del 4 maggio 2016 è quella dove è stato pubblicato tutto il nuovo regolamento europeo sulla protezione del dato sensibile la gazzetta europea una volta pubblicato un regolamento lo fa diventare ufficiale ed effettivo in tutti i paesi dell'unione quindi dal 2016 questo regolamento è in vigore come vi dicevo l'italia l'ha introdotto ufficialmente nell'ordinamento tramite la legge 101 del 2018 cosa è successo perché c'è questo nuovo regolamento beh due cose molto importanti che sono dei giorni nostri dei giorni nostri per modo di dire questo regolamento è entrato in vigore nel 2016 ma perché perché già dal 2011 la comunità europea il garante europeo incominciava a porsi delle serie domande sulla presenza di nuovi strumenti come ad esempio internet e ancora di più big data perché questi due elementi sono importanti perché hanno cambiato un po il nostro modo di vivere viene da solo che adesso l'utilizzo del commercio elettronico particolarmente adesso dopo col tema cove ma in generale l'utilizzo del commercio elettronico era già abbastanza avanti anche pre covid tutti i nostri dati erano dentro in questi grandi archivi le banche le compagnie telefoniche e la scuola e lo stato le poste insomma i nostri dati ormai sono contenuti in una marea di dati ma soprattutto ormai il sistema diciamo internet o social o virtual o digitale che dir si voglia prende i nostri dati in maniera automatica e li mette disponibili sul web ovvio che questo cambia molto il concetto di proprietà del dato personale mentre prima noi avevamo l'indirizzo e il telefono che erano nostri se volevamo li davamo noi e quando li davamo noi gli altri dovevano gestire in certo modo adesso no perché adesso noi quando navighiamo su internet tramite i cookies che sono questi piccoli programmini che abbiamo sul nostro pc che vengono messi dai vari browser tramite cookies appunto i nostri dati vengono presi dal pc e messi a disposizione del web ovviamente noi possiamo dire di no non assolutamente cancella i cookie non accettare i cookie però lo sapete benissimo nel momento in cui dite di no non accettate i cookie eccetera certe funzionalità non le avete e allora normalmente accettiamo tutto in modo tale che i nostri dati sono in giro quante volte voi siete andati su amazon a cercare una cosa e poi per i giorni successivi avete avuto centinaia di visualizzazioni su quella cosa che avete cercato magari una settimana fa e che ormai non mi serve neanche più però tutti i siti web dove andate vi dicono guarda un po questo bel monitor questo paro di scarpe questo questa penna quindi la direttiva europea del 95 era obsoleta già nel 96 il regolamento europeo del 2016 è già un po assoluto anche adesso perché adesso con la didattica digital integrata con tutti i sistemi che ci sono sono esplosi grazie alla pandemia covide chiaramente sarebbe quasi da rifare il regolamento europeo però cioè incominciamo ad applicarlo che già già non sarebbe mai quindi il motivo vero per cui è stato e fatto questo regolamento è proprio che ci sono questi nuovi elementi come internet e come le grosse compagnie che hanno dati su dati che gestiscono ovviamente i nostri dati personali che insomma era una gestione abbastanza irregolare e soprattutto se vi ricordate bene a livello di marca ma già anche adesso no le centinaia di telefonate che ricerete contas center vuole cambiare il contratto non vuole cambiarlo tutto questo è se non se non debitamente informato e se non debitamente raccolti consensi un illecito ora cosa succede il 5 maggio entra in vigore questa direttiva quindi dal 2016 noi siamo sotto questo nuovo regolamento europeo è molto importante questo regolamento troppo perché fa una cosa che ha un po stranito il mercato nel senso che cambia l'onere come si diceva una volta della prova cioè mentre prima si diceva i dati sensibili sono questi vanno gestiti così e quindi se tu non se tu non non li gestisci così fai un illecito oggi questo regolamento dice un'altra cosa diceva beh allora io tutti i dati sensibili non li posso sapere perché ormai su internet ci sono anche dei dati importanti come il comportamento voi sapete benissimo che il vostro comportamento d'acquisto è una delle cose che viene tenuta sotto monitoraggio perché è chiaro che se 200 mila persone vanno su internet a cercare un monitor chiaramente quello è un dato molto interessante che i grossi big data tipo google tipo facebook eccetera possono prendere e vendere a magari la sony o alla samsung che fanno i televisori e quindi dicono guarda che la gente sta cercando il monitor da 40 pollici sotto i 300 euro a quel punto per quel natale lì la samsung butterà fuori un televisore da 40 pollici sotto i 300 euro questo è ovviamente una gestione di marketing di mercato però che si basa sull'utilizzo di dati che sono i vostri e che non è giusto utilizzare se non tramite il vostro consenso quindi cos'è il cambio epocale il cambio epocale è che proprio perché ci sono tutta questa serie di comportamenti che non è possibile monitorare o mappare il garante ha fatto un ragionamento inverso cioè ha detto vabbè io siccome non posso seguire tutta questa cosa io cosa faccio io stabilisco delle linee guida do delle regole d'ingaggio dico che struttura ci vuole per le aziende o per gli enti pubblici che gestiscono i dati sensibili e dico quali sono le sanzioni dopodiché per me fate quello che volete così riassunto è il famoso principio di accountability cioè sei tu che ti costruisci no sulla base delle linee guida che ti do io le regole d'ingaggio interne e anche con che strumenti gestisci il dato e come lo gestisci bellissimo molta libertà favoloso chiaramente per chi ha questa grande libertà di manovra per chi diventa il gestore dell'accountability della privacy chiaramente ci sono anche molte competenze che deve avere molte più responsabilità quindi il principio di accountability è un principio nuovo molto importante che ribalta un po la gestione della privacy perché dice vabbè io ti do le linee guida poi tu disegnati quello che è più adatto per la tua azienda però seguendo le linee guida è il principio di by default e by design by default sono le linee che comunque tu non puoi non seguire e by design è comunque adattate alla tua realtà aziendale e mettile in piedi secondo la tua necessità quali sono le linee guida che il garante assegna a praticamente coloro che devono gestire il tema privacy le linee guida io ve le riporto in questa slide che voi vedete sono queste sei linee guida che sono molto importanti soprattutto se parliamo di enti pubblici allora l'ente pubblico a differenza dell'ente privato è soggetto a delle dei meccanismi ancora più vincolanti per esempio l'ente pubblico il dato sensibile di una persona fisica vi ricordo che questo regolamento europeo è per le persone fisiche non parla di aziende anche se poi in realtà anche l'azienda è assolutamente coinvolta perché l'azienda comunque tratta persone fisiche quindi in realtà è vero che per le aziende non si applica ma per le aziende che trattano dati di persone fisiche quindi bene o male ci siamo allora dicevamo la liceità la prima regola di ingaggio la prima assoluta che il garante pone come obbligatoria è la liceità cioè per l'ente pubblico il garante dice caro ente pubblico tu puoi trattare i dati di qualcuno solo se c'è una liceità cioè se c'è una legge che ti autorizza ad avere quei dati guardate questo è un punto molto importante perché la pubblica amministrazione può trattare i dati delle persone solo tramite legge cioè ci deve essere una legge che autorizza la pubblica amministrazione a svolgere quel tipo di attività su quel tipo di dati esempio banalissimo le anagrafi degli alunni che la scuola a perché l'istituzione obbligatoria ed è scritto nella costituzione altro esempio banalissimo le dati i dati sanitari sulle vaccinazioni che la scuola ha perché c'è una legge che dice che se vuoi entrare a scuola deve essere vaccinato come le diagnosi dei bambini disabili perché la legge sull'inclusione impone che la scuola crei dei piani didattici personalizzati sugli alunni disabili e quindi deve conoscerne la disabilità come vedete c'è tutto un andamento coerente ma la scuola non ha solo i dati degli alunni e delle famiglie c'è anche i dati per esempio dei colleghi docenti quindi tutti i docenti che lavorano presso una scuola la scuola ha tutti i dati ma non tutti i dati di indirizzo c'è anche il casellario giudiziale di questi docenti perché perché c'è una legge che dice che se vuoi essere assunto dallo stato non devi aver commesso reati contro la pubblica amministrazione o contro la persona cioè i famosi reati che poi sfociano nel penale in particolare sui minori quindi la scuola è obbligata al lato della formalizzazione del contratto a chiedere il casellario giudiziale del docente che o dell'ata o del collaboratore scolastico e tenerlo nei propri archivi in realtà su questo punto vedremo dopo che non è proprio così ma comunque deve chiedere il casellario giudiziale verificare che la persona non abbia reati contro la pubblica amministrazione o contro le persone fisiche e quindi poi fare il contratto di assunzione o non farlo se il casellario giudiziario è evidentemente intaccato da questi due elementi liceità quindi è un elemento molto importante la pubblica amministrazione nel momento in cui prende dei dati senza un giustificativo di legge commette un reato correttezza ovviamente il trattamento deve essere corretto cioè corretto vuol dire che io recupero quel dato in modi leciti con sistemi chiari e soprattutto devo essere trasparente cioè io poi devo fare tutta un'informativa che dice a ovviamente le mie persone o chiaramente la mia utenza chiamiamola che dati prendo con che strumenti li uso e per che cosa voi direte ma se c'è una legge che dice di far così certo però l'informativa è una delle regole del GDPR quindi la scuola pur non essendo tenuta in alcuni casi a richiedere il consenso per l'utilizzo di quei dati perché c'è una legge che l'autorizza è comunque tenuta a fare un'informativa in cui racconta che cosa fa seconda linea guida la limitazione delle finalità la limitazione della finalità è utilissima quando andiamo nel privato cioè la limitazione della finalità vuol dire che se io raccolgo un dato per fare l'iscrizione di un alunno quel dato lo posso usare solo per l'iscrizione dell'alunno e non magari per mandargli la pubblicità della scuola per esempio è ovvio che difficilmente voi mandate la pubblicità della scuola a un alunno vostro però pensate alle aziende, alle banche che vi prendono i dati per aprire il conto corrente e poi vi tempestano di pubblicità per il deposito titoli, per le azioni, per il patrimonio sicuramente la limitazione della finalità è più utile sul privato ma anche sulla scuola è un principio da tenere nella massima attenzione perché utilizzare il dato raccolto per una cosa o per un'altra è una violazione del GDPR minimizzazione dei dati, altro elemento abbastanza importante in realtà noi dobbiamo chiedere i dati che ci servono e basta e solo una volta quindi continuare a chiedere le carte d'identità dei genitori per ogni singola cosa che fanno è sbagliato si chiede una volta, una volta che si ha il dato per quella finalità appunto ad esempio il dato per venire a recuperare gli alunni cioè chi viene a recuperare gli alunni? Il nonno, benissimo mi dai la carta d'identità del nonno? Benissimo punto poi non è che tutte le volte che viene il nonno io tengo quella carta d'identità all'ingresso che così la vedono tutti io prendo il numero di quella carta d'identità lo metto in un elenco col nome del nonno quindi bambino, Giovannino Giovannini viene a prenderlo il nonno Carlo Giovannini numero carta d'identità lo do al bidello, al collaboratore scolastico all'ingresso il collaboratore scolastico quando viene a prendere a meno che non lo conosca ma se no verifica il numero di carta d'identità e non avete il dato duplicato 200.000 volte perché a quel punto il collaboratore scolastico all'ingresso non ha tutte le carte d'identità di tutti quelli che vengono a recuperare gli alunni che è anche un casino e che è anche un illecito esattezza certamente il dato deve essere esatto e aggiornato chiaramente quindi ogni anno voi dovreste fare in modo di avere da parte dei genitori l'aggiornamento per esempio dei telefoni, degli indirizzi tutte queste cose qua e penultimo punto ma molto importante la limitazione della conservazione vuol dire che cosa? che io posso recuperare quei dati che identificano quella persona solo per il tempo per cui mi servono per raggiungere la finalità per cui li ho presi esempio banale io raccolgo i dati del casellario giudiziario di un docente per fargli il contratto una volta fatto il contratto quindi raggiunta la finalità di fare il contratto al docente quel dato lì io non dovrei più averlo cosa vuol dire? vuol dire che io quel casellario giudiziario lì una volta che ho visto che è tutto apposto che ho fatto il contratto lo cancello, non lo conservo più perché non mi serve più voi mi dite sì però se viene il revisore dei conti e mi dice fammi vedere se il casellario giudiziario è tutto apposto tu cosa hai visto, cosa non hai visto allora vi dico subito i casellari giudiziari si possono andare a recuperare anche per tempo quindi io posso dire alla data del 12 giugno del 2000 che casellario aveva questo qui? e la procura ve lo dà ovviamente quando il dirigente firma il casellario cioè firma il contratto automaticamente dichiara con quella firma che ha rispettato la legge che dice che il casellario era apposto quindi è la parola del dirigente che conta dopodiché se il dirigente non ha guardato il casellario e quella persona lì in realtà aveva fatto reati della madonna a quel punto la responsabilità è dirigenziale la limitazione della conservazione è anche quel principio guida che dice che il fascicolo dell'alunno una volta che l'alunno se ne va glielo date all'alunno che se lo porta dietro all'altra scuola o lo mandate via pecca all'altra scuola questo è un altro elemento ma diciamo che tutta questa cosa dice semplicemente che il dato che voi avete raccolto lo usate, lo tenete finché avete quella finalità poi ci sono dei problemi di conservazione perché siete obbligati a conservare dei dati anche dopo la fine della finalità quella conservazione di quel dato deve essere fatta in modo tale che lo conservate ma non lo usate ovviamente è facilissimo col digitale perché si mette il file pdf in un archivio chiuso con password e nessuno lo può andare a vedere già un po' più difficile con la carta perché dovete metterlo in armadi, clusi, blindati, ignifughi eccetera ultima linea guida ma forse la più difficile per la pubblica amministrazione di tutte è integrità e riservatezza il dato deve essere trattato in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali il che vuol dire avere un sistema informativo della scuola che è a prova di ECCAR a prova di bomba cioè nessuno può entrare si accede solo con password gli antivirus sono sempre aggiornati gli hotspot quindi il wifi si accede non con le password semplici ma con le password cifrate cioè c'è tutto un sistema informatico perché ricordatevi che il dato sensibile ormai è digitale c'è tutto un sistema informatico che deve essere messo in piedi con misure tecniche organizzative e anche organizzative non è solo tecniche non è solo c'ho l'antivirus sono a posto vuole anche dire aver fatto un'informazione adeguata per cui gli amministrativi o chi usa il computer della scuola non ci mette la password 1-2-3-4-5-6-7-8-9 o admin-admin o password-password ma ha una cultura organizzativa della sicurezza che fa in modo che la password sia un pochino più complessa e che non ce la scriviamo sui foglietti o sulle stick note di iOS che si vengono lette in due secondi quindi qui c'è un elemento che è tecnico organizzativo che il garante esige ma lo esige perché? perché fa fede alle misure minime di sicurezza che l'Agid, l'ANAC ha definito come misure minime che la pubblica amministrazione deve garantire il garante dice vabbè se tu garantisci quelle per me va bene quindi il garante fa sponda con leggi e indicazioni che già sono presenti e che già voi dovete seguire vi ricordo che le misure minime di sicurezza sono del settembre 2017 bene, queste sono praticamente le linee guida cioè quello che il garante dice vabbè se tu i dati li gestisci e li conservi così per me va bene poi dimmi tu come li vuoi fare e questo dimmi tu il garante a chi lo dice e lo dice a quella struttura organizzativa che il garante ha deciso che è la struttura che gestisce la privacy intanto per esempio il primo fra tutti è il titolare del trattamento che per il garante è una figura che deve sapere non può non sapere deve essere un tecnico in gamba e non può non essere un tecnico in gamba quindi è la persona che è competente per definizione questo qua è l'organigramma che il garante della privacy ha pensato quando ha creato questo nuovo regolamento cioè per vederlo in maniera molto semplice c'è il titolare del trattamento il titolare del trattamento è la persona fisica o giudica l'autorità pubblica il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali cioè il titolare del trattamento è colui che decide come usare i dati che ha per legge e con che finalità cioè è praticamente la persona che è la massima autorità dentro nell'ente di cui si sta parlando per la gestione della privacy è chiaro che nella scuola l'unico rappresentante legale dell'ente è il dirigente scolastico ed è l'unico che può essere definito il titolare del trattamento non può delegare quindi non esiste delega quindi il titolare del trattamento cioè il dirigente scolastico è la persona che ha al massimo la responsabilità sulla privacy visto che comunque la privacy come avete visto come abbiamo detto anche prima è legata a tre grossi aspetti quindi la normativa i regolamenti le leggi esistenti la cyber security la sicurezza informatica gli strumenti informatici e ovviamente il mondo organizzativo in cui la privacy viene applicata quindi normalmente il mondo della scuola ecco che tutta questa cosa ci fa dire che chiaramente chiaramente il titolare del trattamento soprattutto nella figura del dirigente scolastico da solo diciamo che fa un po' fatica ad arrivare da tutte le parti allora il garante gli ha dato la possibilità di prendere di avere come assistente una figura che si chiama che viene definita data protection officer questa figura che semplicemente è una super un super consulente un mega consulente detto tra di noi viene selezionato con delle caratteristiche ben precise allora quali sono queste caratteristiche ben precise? in primis deve essere appunto esperto di cyber security esperto di legge e conoscere l'ambiente in cui deve operare e in questo caso il mondo della scuola già una figura che abbia tutte queste tre competenze non è così diciamo identificabile ma soprattutto deve essere indipendente dal titolare del trattamento cioè bisogna dimostrare garante che il data protection officer è una figura indipendente dal titolare del trattamento evidentemente quest'ultimo tassello azzera la possibilità di avere il DPO all'interno dell'istituzione scolastica perché è molto difficile identificare in un docente della scuola ma anche in un'ata una figura indipendente dal titolare forse l'unica figura indipendente potrebbe essere il presidente del consiglio d'istituto ma anche questa cosa lascia degli ampi margini di dubbio e soprattutto all'interno della scuola una figura che abbia tutte queste competenze qua è molto difficile trovarla anche all'interno degli stessi dirigenti scolastici perché a volte hanno sicuramente la competenza sulla scuola la competenza legale sì ma è molto limitata e soprattutto la competenza dal punto di vista di cyber security informatica a livello di ingegner non ce l'hanno quindi il DPO è nel 99% dei casi una figura esterna un consulente esterno che viene acquisito per bando o per affidamento diretto ma sempre con una prevalutazione del curriculare che si affianca al titolare del trattamento per dargli una mano a costruire tutto l'impianto o a consigliarlo su determinati elementi è ovvio che il data protection officer permettetemi di dirlo non è la persona che deve fare le attività è un consulente che consiglia non è quello che si mette lì a fare il registro dei trattamenti ma nemmeno la formazione in realtà noi come società abbiamo deciso di farla ma non è all'interno del compito del DPO il DPO ha il compito di verificare che venga fatta la formazione ma non di farla e quindi il data protection è quella figura che in tempo di pace è il consulente del titolare in tempo di guerra cioè nel momento in cui il garante dovesse fare un'ispezione sulla vostra struttura il primo che va a prendere per farla è il data protection officer quindi è una specie di già nobile fronte che in tempo di pace è il vostro consulente il tempo di guerra purtroppo diventa il vostro ispettore all'interno all'interno di questa diciamo cabina di regia fatta da titolare data protection e DPO o responsabile della protezione del dato ci sono delle figure intermedie che in particolare sono delle figure interne cioè i responsabili del trattamento o gli autorizzati al trattamento e delle figure esterne cioè i responsabili esterni che caratteristri hanno queste figure? i responsabili del trattamento anche se il nome lo può far pensare non è colui che ha la responsabilità quindi la colpa se succede qualcosa è semplicemente il gestore di quel trattamento esempio banale nella scuola l'ufficio di segreteria l'ufficio alunni sarà responsabile di tutti i trattamenti che vengono fatti sugli alunni ovvero le iscrizioni il rilascio dei diplomi le assenze delle presenze l'acquisizione delle diagnosi dei bambini disabili e tutta questa roba qua il responsabile del trattamento quindi è una persona identificata dal titolare del trattamento con l'aiuto del DPO a cui viene fatto una formale investitura di ruolo che lui deve accettare quindi in teoria può anche rifiutarsi però rifiutarsi di accettare una cosa che uno fa già è un po' strano anche perché è garantista questa cosa perché questa nomina è il titolare che dice alla persona che normalmente tratta i dati sensibili guarda io ti nomino responsabile quindi tu tratti i dati come te lo dico io questa è una tutela perché ovviamente se succede qualcosa e uno ha questa nomina uno può dire io li ho gestiti come mi ha detto lui quindi diciamo che già va bene ovviamente poi ci sono i responsabili esterni perché il mondo della scuola in particolare ha delle figure esterne che gestiscono i dati l'esempio classico è il registro elettronico se voi pensate il registro elettronico è un esempio classico di trattamento esterno perché Spaggiari Argo Axio Regio il Nuvola tutti questi registri qua comunque vedono un sacco di dati sensibili quindi il titolare del trattamento deve nominare queste figure come responsabili esterni che hanno ovviamente la delega a trattare quel dato che serve per fare il registro elettronico non ci sono solo le società del registro ma per esempio anche l'RSVP il medico competente chi fa il profilo di contabilità le cooperative comunali che vi mandano gli educatori cioè quando arriva un educatore il responsabile esterno del trattamento è la cooperativa che vi manda l'educatore quindi il DS deve nominare la cooperativa responsabile esterno poi sarà la cooperativa che si preoccuperà di gestire tutte le singole figure che entrano nella vostra scuola quindi il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che si occupa di definire le finalità e lo fa con la legge che gli dice cosa deve fare e i mezzi quindi sceglie le piattaforme è il titolare del trattamento che decide che piattaforma utilizzare per esempio per la didattica digitale integrata chiaramente lo farà confrontandosi col collegio dei docenti ma è lui che decide non è il collegio che decide è il titolare sul suggerimento del collegio per carità ma è lui che poi ha la responsabilità quindi se poi succede che il garante della privacy europeo fa una sentenza in cui dice no quel sistema lì viola la privacy la responsabilità di averlo scelto è del titolare del trattamento è successo quest'estate con google che è stato diciamo sanzionato del garante europeo e gli è stato invalidato quello che era il famoso privacy shield che google si era inventato per cercare di gestire le proprie piattaforme rispetto a quello che è la normativa europea la normativa USA il responsabile del trattamento come abbiamo detto è la persona fisica bla 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 che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento quindi vedete che qui di responsabilità oggettive non ce ne sono cioè tratta per conto quindi fa delle robe per conto del titolare quindi se il titolare gli dice di fare una cosa sbagliata questa persona non ha colpe certo se poi questa persona per dolo fa delle attività e allora lì non c'è legge che lo tuteli quello è sicuramente una colpevolezza acquisita ci sono gli autorizzati per esempio tutti i docenti che usano il registro elettronico non sono tutti i responsabili del trattamento sono autorizzati al trattamento cioè hanno l'autorizzazione da parte del titolare a vedere i dati che ci sono dentro in quegli strumenti ok la scuola è tenuta anche a compilare quello che viene definito il registro dei trattamenti cioè il garante pretende che tutte le pubbliche istituzioni che gestiscono dati sensibili soprattutto se sono di una certa natura abbiano un registro dei trattamenti in cui ci sono delle informazioni minime che sono quelle che qua voi sulla slide vedete e queste informazioni minime sono quelle che il garante si aspetta di vedere appena viene nella scuola per capire se è stato fatto tutto bene o male il registro dei trattamenti è una diciamo un foglio Excel normalmente non è un cartaceo di cartaceo il garante non ha previsto nulla ma è un foglio Excel in cui vengono definiti e descritti i trattamenti nella forma più puntuale sul tutto questo mondo della privacy ci sono delle sanzioni pecuniarie e anche delle sanzioni amministrative le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino ai 10 milioni di euro ovviamente dipende sempre la sanzione è molto legata al fatto cioè a cosa è qual è l'elemento scatenante cioè è chiaro che se Facebook prende i dati di 10 milioni di persone li utilizza per fare delle attività di marketing non autorizzate piglia 10 milioni di multa se una scuola sbaglia a mandare in giro un PDP difficilmente prenderà una multa ma se quando anche dovesse prenderla parliamo di 5 10 15 mila euro non certo i 10 milioni perché la multa poi è correlata all'attività che viene svolta diciamo che ultimamente le multe che ha dato il garante nell'ultimo periodo hanno una media di 14 mila euro cioè la multa media che il garante ha dato nell'ultimo anno è sui 14 mila euro quali sono le cose dove diciamo il garante interviene bene sono questi articoli in particolare quasi tutti dal secondo vista l'otto cioè l'informativa il trattamento che non ha la protezione dei dati insomma un po' tutta la mappatura su cui viene costruito il GDPR è oggetto di sanzionamento quindi è più una roba organizzativa vedete il 30 registri di attività se il garante non li trova vi sanziona se non c'è la sicurezza del trattamento qui c'è l'articolo 32 che è fondamentale quello che vi dicevo prima il principio di accountability ne abbiamo parlato adesso andiamo a vedere un attimo questo discorso quando parliamo di sicurezza cioè l'articolo 32 il garante si aspetta di trovare questa situazione cioè una mondo scuola questo qui questa mattonella rossa mamma mamma non sono rossa dove ci sono i dati della scuola le macchine della scuola vedete le macchine di presidenza e segreteria dello staff quelle date dalla scuola però le macchine della scuola i server su cui la scuola ha messo le directory eccetera i documenti il cloud dei fornitori esterni parlavamo prima del registro il registro è tipicamente uno degli strumenti che il fornitore vi dà in cloud vedi Spaggiare Argo Access ma anche il sito web il sito web difficilmente è su macchine della scuola di solito è su sistemi esterni che poi in cloud vi danno i servizi e poi vari laboratori questo è l'ambiente che il dirigente scolastico ovvero il titolare del trattamento deve garantire come sicuro quello che c'è qua è tutta colpa tra virgolette o responsabilità del titolare del trattamento ovvio tutto quello che c'è qua perché questo è l'ambiente scuola questo è quello che il garante chiede che venga messo in sicurezza purtroppo cosa succede? succede che poi questo ambiente è inevitabilmente collegato col mondo tramite internet e quindi qua ci devono essere i firewall i sistemi di sicurezza i router aggiornati tutta una serie di meccanismi gli accessi al wifi con i mac address con le password insomma tutta una serie di cose che se andate a vedere nelle misure di sicurezza trovate e soprattutto tutto il tema della posta elettronica e della PEC ora è evidente che un dato che è al sicuro qua dentro non è nello stesso modo al sicuro qua fuori quindi cosa vuol dire che se io prendo un dato facciamo l'esempio la diagnosi funzionale di un bambino io prendo il dato da qui prendo la mia casella mail magari di gmail come docente e lo mando a tutti i colleghi del consiglio di classe boh non ho rispettato le misure di sicurezza che il garante mi richiede perché io quella casella gmail non ho misure di sicurezza su quella casella e quando la mando con la mail normale non ho misure di sicurezza al contrario della PEC quindi cosa succede se la scuola deve mandare dei dati sensibili in giro che usi sempre la PEC se un docente deve visionare dei dati sensibili che entri nei sistemi della scuola e li visualizzi qua non portateli fuori qua se li portate fuori qua ci sono dei sistemi che fanno sì che il computer di un docente si possa collegare tramite questo canale al server in maniera sicura a quel punto lì vuol dire che questo computer sta lavorando qua dentro e allora va bene se no no quindi attenzione a questi elementi perché sembrano banalità ma sono molto importanti come per assurdo chiavette usb stampe copie eccetera basta sarebbero da evitare come la morte perché l'ideale sarebbe lavorare qua dentro come vedete questo punto è il punto chiave perché poi il garante da per scontato che di carta non ce ne sia più e che sia stata applicata la legge 82 del 2005 cioè il codice dell'amministrazione digitale che è quel codice che in teoria permette di non avere più documenti cartacei e di avere il massimo della sicurezza qua dentro perché io ho tutti i sistemi di cyber security messi in funzione chiaro che le scuole su questo tema non tutte sono allineate ci sono delle scuole soprattutto delle superiori perché ovviamente lì hanno più soldi un po' più soldi hanno più professionalità interna perché un ingegnere informatico è più facile di trovarlo alla superiore che a un istituto comprensivo evidentemente quindi alcune superiori diciamo che sono a un buon livello normalmente gli istituti comprensivi no ma per motivi oggettivi però questo al garante interessa fino ad un certo punto il garante si aspetta di trovare tutto a posto tutto a posto che vuol dire anche dover fare alcune attività adesso io mi permetto di farvi vedere che questo immaginate sia il server della scuola io queste cose le posso vedere dal server cioè le lancio da lì sono al sicuro se le stampo non sono più al sicuro perché quel dato lì è uscito da qua se le metto su un cellulare o su una chiavetta USB sono usciti è come se io li portassi fuori dalla cassaforte che è il mondo scuola quindi in poche parole qua è tutto va tutto bene se lavorate qua non c'è problema per la privacy se lavorate qua dovete stare attenti a non usare la casella mail per mandare in isolati sensibili se lavorate qua direi che bella croce rossa e buona notte una cosa importante da sapere è che questo nuovo GDPR richiede una forma è molto formale cioè esige che ci sia un'informativa puntuale con tutti i punti un contratto corresponsabile un contratto responsabile esterno che sia tutto scritto che l'informativa vada sul sito quindi ci sono tutta una serie di attività da fare che se non sono fatte potrebbero essere sanzione di un reprimenda tenete conto per esempio vi ho portato un esempio che già nell'informativa ci sono dei contenuti minimi che il garante si aspetta di vedere quindi la materia disciplinata cioè cosa mi stai dicendo che il mio dato è gestito nel registro elettronico benissimo perfetto ok bene se è nel registro elettronico qua me lo devi dire che quanto dura il trattamento 5 anni perché la scuola di mio figlio dura 5 anni finché è a scuola mio figlio benissimo benissimo la finalità è farlo uscire dalla scuola tenerlo a scuola fargli fare la lezione boh me lo devi dire è ovvio no non è ovvio per il garante non è ovvio niente mi devi scrivere tutto capite che ci vuole un attimo più di lavoro alle spalle un'altra cosa nota di costume ma comunque interessante è che questo GDPR prevede anche il diritto al risarcimento cioè se il dato sensibile di un alunno viene utilizzato male il garante prevede anche che ci sia una forma di risarcimento verso il titolare di quel dato è ovvio che questa è una cosa molto importante sul privato se io uso i tuoi dati per fare della pubblicità che tu non mi hai autorizzato posso anche essere obbligato a riconoscerti un danno per ora non c'è stato granché però è una cosa che nel GDPR c'è ora vediamo un po' alcuni punti chiave e poi terminiamo questa chiacchierata allora sicuramente il consenso il garante si è espresso più volte il consenso scritto non è necessario qualora l'attività che la scuola svolge sia istituzionale quindi non è più necessario far firmare alle famiglie centinaia di moduli è al contrario però è necessario comunque fare l'informativa corretta quindi la mancanza di acquisizione del consenso non toglie alla scuola l'obbligo di fare un'informativa puntuale precisa le regole di ingaggio vabbè allora le scuole hanno l'obbligo appunto dell'informativa e ricordo che possono trattare solo i dati che la legge gli concede i PDP sono uno dei momenti più difficili allora quello che io consiglio è che il PDP venga gestito in un modo simile a questo allora se io devo mandare un'analisi una diagnosi scusate funzionale a un consiglio di classe per far sì che possa essere fatto il PDP su quel bambino gliela mando tramite registro elettronico la mando cioè prendo il PDF che la segreteria ha sul sistema sicuro mattonella rossa la mando tramite registro elettronico quindi rimane tutto nella mattonella rossa il consiglio di classe lo vede sul registro elettronico quindi mattonella rossa fa le sue considerazioni fa il verbale e fa il PDP sul registro elettronico quindi mattonella rossa siamo all'interno del garante io prendo come segreteria la diagnosi la mando via mail al docente già non va bene il docente gira la mail a tutti i suoi colleghi già non va bene quindi gli strumenti ci sono per stare dentro nelle regole di ingaggio del garante bisogna solo abituarsi a usarle cioè bisogna cambiare un po' quelle abitudini che noi abbiamo avuto fino a qua riprese delle lezioni sì è possibile sappiate che gli alunni possono riprendere le lezioni chiaramente solo per uso personale e se poi quelle riprese lì vanno su facebook sono sanzionabili viceversa la scuola può riprendere le lezioni per metterle a disposizione anche in streaming degli alunni magari con disturbi specifici dell'apprendimento tutta questa attività però deve essere definita dal collegio dei docenti nel regolamento di istituto oppure nelle indicazioni didattiche che il collegio dei docenti dà e che il dirigente poi approva e fa portare avanti va bene qua su questo documento lo trovate sulla pagina dove trovate questo video quindi questo video in streaming quindi questo documento voi lo potete tranquillamente scaricare e leggere per vedere un po' i dettagli che qua ci sono utilizzo delle chat questa è un'indicazione molto attenta allora spesso le scuole usano chat blog e robe simili per fare un'aggiunta un'integrazione agli strumenti che hanno premesso che oggi gli strumenti di didattica integrata se sono formalmente corretti hanno dentro già tutto però si usa molto whatsapp vi dico quali sono i punti su whatsapp fate attenzione perché in primis whatsapp c'è i numeri in chiaro quindi quando fate un gruppo di whatsapp già violate la privacy di tutti quelli che mettete nel gruppo dovreste prima chiedere il consenso preventivo usate telegram che effettivamente su telegram non ci sono i numeri condivisi tutti i documenti che voi mettete su quelle chat state molto attenti perché sono fatti a livello personale quindi il rischio è che se mettete un documento della scuola su quelle chat rischiate anche di distribuire pubblicamente dei documenti magari riservati per quello che riguarda i blog e le pagine facebook che di solito il docente fa fatele a nome vostro personale non mettete i loghi della scuola perché se fate questo dovete chiedere l'autorizzazione al titolare del trattamento che ve la deve dare per scritta perché altrimenti fate una violazione quindi molta attenzione a questo tipo di approccio soprattutto su questi strumenti social che sono abbastanza micidiani bene un'altra cosa e poi chiudiamo questa breve chiacchierata un'altra cosa importante è questa tenete conto che per esempio sulla didattica digitale ci sono moltissime piattaforme si è espresso sia il garante che il ministero dell'istruzione la cosa molto chiara di tutte queste piattaforme è che il titolare del trattamento le deve formalizzare cioè deve avere un contratto in cui vengono definiti i ruoli di responsabilità e obiettivi è scritto anche nella circolare del ministero dell'istruzione del 3 settembre 2020 che vi invito ad andare a leggere la trovate su queste pagine dove il ministero dice chiaramente che anche in caso di utilizzo di piattaforme private il contratto gratuito scusate il contratto fra la scuola e il gestione della piattaforma deve essere formalizzato ora ad oggi Google Microsoft eccetera di contratti formalizzati è molto difficile averne soprattutto finché si usano gratuite quando iniziate a pagarle allora il contratto ce l'avete perché se poi non pagate ve la chiudono quindi attenzione a questa cosa perché sono cose importantissime soprattutto da parte del titolare del trattamento direi che come prima informativa generale e chiacchierata globale ci siamo vi invito a guardare sulla pagina dove trovate questo video tutta la documentazione e anche i quaderni della privacy che vi abbiamo messo in forma assolutamente gratuita li potete scaricare che fanno parte di un libro che abbiamo pubblicato che riassuma un po' tutti questi concetti quindi io vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto alla prossima chiacchierata che faremo intanto vi faccio anche visto che gli auguri di qualsiasi buona festa dipende da quando guardate questo video un saluto a tutti di qualsiasi